Ciao a tutti, siamo appena tornati a casa, è il giorno di lunch, sobranguton, naguton e abbiamo appena trovato questa mattina che Bawal, Loma Bassa, piazze pubbliche e piazze dove ci sono fattamenti, quindi abbiamo messo tutte le cose e abbiamo scoperto che non potremo poter prendere Belli Bella in ogni piazza probabilmente per alcuni giorni almeno, probabilmente qualche settimana siamo sotto il livello 4 di restrizione, quindi abbiamo bisogno di trovare qualcosa da fare con Belli Bella vogliamo di farlo divertire, cosa possiamo fare? Mabuhe, Filippini, come stai ragazzi, spero che tutti sono bene, un bellissimo giorno qui in Puerto Princesa, è il giorno di lunch e siamo sobrangutti, siamo arrivati all'inizio all'inizio, sperando che abbiamo potuto prendere Belli Bella alla piazza, certo? Sì Ma cosa sta succedendo? Apparentemente, tutte le piazze sono scoperte, perché siamo in stricte lapdata Sì, non possiamo realizzare, non abbiamo capito, non abbiamo capito, non abbiamo capito, non abbiamo capito non abbiamo capito, non abbiamo capito, non abbiamo capito, non abbiamo capito, non abbiamo capito non abbiamo capito, non abbiamo capito, non abbiamo capito, non abbiamo capito, non abbiamo capito quindi, dobbiamo rimanere a casa, Bella Sì, e vogliamo veramente lasciare a bebi Bella, ma è la destina che non possiamo veramente prendere la piazza No, e sempre a casa, cucina, bebi Bella non può sentire molto, quindi oggi, la piazza di biazza per bebi Bella, certo? E se non puoi andare alla piazza, prendere la piazza a casa e useremo il nostro piazza fortunatamente, proprio a mattina, prenderemo il nostro piazza per bebi Bella e faremo una partita di barbeque con il piazza è davvero la destina che non possiamo andare alla piazza quindi abbiamo qui il nostro cacolo e faremo un barbeque di Yempo e la farmo giocare nella piazza abbiamo bisogno di trovare qualcosa di fare ogni giorno perché non abbiamo capito in realtà, a mattina, sentiamo così male che non eravamo capito di prendere la piazza ma non potremo prendere la piazza per sicuramente per un'altra settimana e magari sarà anche estendata perché il livello di allerta è abbastanza alto ci sono più di 700 casi quindi prenderemo le vibrazioni positivi metteremo la piazza metteremo la piazza prepariamo la città che siamo molto bene a casa e proviamoci molto bene ora, proviamo la piazza la piazza è pronta la piazza è pronta apriamo la piazza e cominciamo la partita qui andiamo qui andiamo qui andiamo siamo pronti per partire sì abbiamo anche qui il nostro porco papi ora prepariamo abbiamo anche la città per te vi darò qualcosa a Behi Bella qui è la piazza vai bebi vai 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 per il nostro porco facciamo la piazza un po' di piazza un po' di piazza un po' di piazza e un po' di piazza e siamo pronti qui andiamo alla città città e curiosa con la palla, sì, ora siamo a spaventare, sì, sì, let's go to put this on the grill, very good, one and two Mimim, Bella, tua amico è qui, sì, Mimim, come here, say hi to us, hmm, Mimim, yes, what do you want to say to Mimim, hmm, what do you want to say to Mimim, Mimim is smelling actually the pork, we need to give him food, huh, he's hungry probably, no, hmm, where is mama, mama, hmm, we need to give food to Mimim, hmm, here we go, it's time to turn, if not, it'll be overcooked, I think, very good, one and two, bella, it's raining so strong, right, it's so big, huh, it's raining really strong, baby, baby, Mimim, we have our pork, salad, we have also some sweet, we will show you, right, baby, and bam, 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 we have also wine, I plan, we cannot, if not, the bella will get drunk, right, we're just making another bongo salad, yes, what we didn't do at the beach, we are going to do it here, yeah, so cold, nice, here we go, lunch time, baby, bella is going to try also chicken today, right, bella, and she wants to get the apple, very good, take the chicken, eat the chicken, all together, no, we need to slice it first, so we have here pork, salad, cocenta, this cocenta is also from the neighbors, right, sobran sarap, and then we have chicken for baby bella, filipino power rice, tinga gnoc, and I'm filipino power today, let's see if bella will like, it's a test, she don't, she don't want, very good, we will let her play, let's eat, eat bella, don't throw everything on the floor, very good, let's eat, oh, she's trying to experiment also, you're experimenting mango, hmm, it's good, look, it's good, on the floor, very good, very good, apple, very good, good, mess it up, mess it up, hmm, yes, baby bella, you did the disaster, tell to people, what did you do, now you didn't do anything, now you're just eating, I think I know guys, what bella bella did, she broke a glass, ah bella, now we need to clean everything, we need to remove the pool and everything, hmm, ah la 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 la, hmm, she's acting like, I didn't do anything, mom and puppy, I don't know anything, there are even glasses all over here, mommy need to really clean, here we go, after that puppy and mommy have cleaned everything, baby bella is now looking down, because she wants to go inside the water, let's go, let's go inside the pool, let's go inside the pool, let's go inside the pool, oh la la, oh la la, okay, very good, air favorite place, yeah, we're not in the beach, in the sea, but in the pool, right, in the baby pool, but she love guys, she love really the water, oh, very good, that's good, yes, yes, get it, get it, oh la la, oh la la, back up, we remove this, yes, better, very good, oh la la la, there he is, oh la, she wants to stand up, Sì, si vuole stare. Ora si è in un sito... Situato in posizione. Siamo finissimi con l'occhio dentro del lato! molto bene sì io sarò senti solo io sarò senti solo oh la la sei solo, bella bella sei solo sei solo sì sì you don't need to drink bella it's not drinkable this one wow 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 yes 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 very good stronger stronger si si more strong very good we are all bagnati very good 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 si so enjoyable so funny here we go back baby bella and i we took a shower right baby huh actually she even slept a bit but she's just woke up so guys we are going to finish another day with the baby bella that i've enjoyed right baby bella did you enjoy yes or no i think she did another day another adventure thank you so much for watching us guys don't forget to comment like subscribe let us reach 200 000 subscriber share our channel to your friends and loves see you tomorrow with a new video super cute see you tomorrow ciao ciao